Il processo tributario telematico è la gestione integrata dei fascicoli. È il tema del forum che si è tenuto nella sala conferenze dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo. Il processo tributario telematico è una realtà. Dopo Toscana e Umbria, le regole tecniche per la costituzione in modalità telematica sono state estese a tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di rendere meno oneroso e più efficiente nell'arco di due anni l'intero processo, con evidenti vantaggi sia nel rapporto fisco-contribuenti sia in termini di risparmi per le casse dello Stato. Fondamentalmente, compre questo primo movimento informativo e informativo per i nostri iscritti, affrontiamo l'argomento del processo tributario telematico, che è un'innovazione introdotta dal legislatore e al quale noi, come dottori commercialisti, siamo obbligati ad adeguarci. L'innovazione tecnologica fondamentalmente è una condizione che è sempre più legata alla nostra professione. Oggi parliamo di processo tributario, domani parleremo dell'opportunità data a tutti i professionisti di partecipare a un mando della Regione Campania per l'accesso al finanziamento per l'innovazione tecnologica degli studi professionali e ovviamente ci adeguiamo alla nuova tecnologia rispetto a quelle che dovrebbero essere delle semplificazioni che vengono apportate dal legislatore alla nostra professione. È un'innovazione di grandissima portata e di attualità veramente straordinaria. Con l'introduzione del processo tributario telematico andiamo a innovare e a introdurre un processo già iniziato nel 2011 con l'introduzione della PEC che certamente nell'ambito della gestione della giustizia in genere occupa un posto fino ad oggi veramente esorbitante e che speriamo con il processo telematico di ridurre in tempi brevi.